nella linea uv creators di fox rage certamente non poteva mancare lo swing ball anche questo presente sul mercato in due diverse dimensioni 7 e 9 cm e in sei diverse colorazioni dalla più naturale alla più sgargiante swing ball è un'esca dalla forma fusolata che presenta delle appendici lungo il suo corpo con all'estremità una pallina tutto questo per creare la massima vibrazione all'interno dell'acqua la gomma con cui è stata realizzata è veramente morbida per creare un'ottima naturalezza in acqua ma allo stesso tempo risulta essere molto duratura per permetterci di catturare più e più pesci l'introduzione delle creature ovvi nel mercato ha fatto fare un notevole passo avanti a fox rage